Continuano a vincere le prime tre della classe nel campione dei Serie D femminile. Tutto semplice contro l'ultimo in classifica per la volley 96 Milazzo, che tra le muramiche stende con un secco 3-1 l'Accademy Catania. La palla a volo Oliveri, seconda forza del torneo, vince la sua sedicesima partita per 3-0 contro la Peloro. E con lo stesso risultato, ma fuori casa, la cicatena stende l'Open Club Sport. Conquista la quarta posizione a quota 40 la Planet Lombardo, che batte la Costa Dolci Papiro 3-0 e scavalca la Galpe Volley. Ora quinta in classifica con 39 punti, che viene sconfitta a Messina e la team Volley per 3-2. Dopo 4-7 equilibrate il Tebrecca a dare la vittoria alla squadra dello stretto, mentre la Nebrodi cede a Randazzo per 3-1 al termine di un match combattuto. 25-19, 25-21, 21-25, 26-24, la sequenza dei set. Nel fine settimana, riflettori puntati sul match d'alta classifica, cicatena Oliveri. Posta alsi, 26-24, la sequenza dei set. XII, 21-25, 26-25, 28-25, 29-25, 28-25, 28-25. Ma cat'ata, riflettori puntati sul match d'alta classifica, cicatena coronavirus, 26-26, 28-25. 23-26, 29-26, 291, 29-28